Vola sull'arine, vento che porta le note, incontro di note Da esperto direttore di spirito Don Gaspare si preoccupa di tradurre l'aspirazione verso ideali di impegno concreto e programmatico indicando vie e mezzi operativi per realizzare effettivamente la conformità con Cristo scrivendo al Padre Bragato suggerirà una pratica Leggete spesso il Vangelo e dai detti e dai fatti di Cristo nostro Signore sminuzzate con una considerazione la meditazione e applicate a voi quello che è più giovane e le circostanze in cui vi trovate Formatevi su quel modello cui ispirano tutti i Santi